Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, la nuova puntata del corso di formazione sull'analisi tecnica per principianti, come iniziare per chi non ha le basi. Oggi parliamo di un strumento, ragazzi. Ci serve uno strumento per proseguire il nostro corso di formazione, per cercare di iniziare a fare le prime operazioni e quello strumento è il conto demo o paper trading di TradingView. Come si usa un conto demo, quali sono i pro, quali sono i contro, quindi vantaggi e svantaggi che dobbiamo tenere conto quando utilizziamo questo strumento, ma soprattutto tecnicamente come si va ad applicare alla piattaforma TradingView per poter poi utilizzare effettivamente questo conto. Se non abbiamo questo strumento non possiamo operare, non possiamo premere i bottoni, schiacciare, vedere se effettivamente le nostre operazioni di analisi tecnica poi possono essere eseguite in qualche modo, quindi dobbiamo capire cos'è un conto demo, come poterlo agganciare alla nostra piattaforma e poi quali sono i vantaggi che può portarci, perché a volte può essere forviante lavorare con i conti demo. Quindi oggi andiamo a fare queste cose, andiamo a collegare il conto demo sulla piattaforma TradingView e andiamo a capire quali sono le differenze più importanti da tener conto nell'utilizzo di un conto demo contro un conto real e quali sono i vantaggi invece che può darci un conto demo e il motivo del perché dobbiamo usarlo. Ma prima di andare sulla piattaforma TradingView a vedere tutte queste cose, ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e poi il pollice in su. Se poi siete anche neofiti, siete nuovi trader che vi siete affacciati a questo canale, ragazzi scrivetelo nei commenti, tutti quelli che sono nuovi, fatemi sapere come vi chiamate, quali sono i vostri nomi, quello che state facendo, scrivetemelo nei commenti, così ragazzi parliamo un po', ci teniamo in contatto e magari posso anche darvi delle dritte non indifferenti, quindi tutti i pollicioni e tutti i commenti dei nuovi arrivati nella mia community, ragazzi. Ora ci possiamo spostare sui grafici. Bene ragazzi, allora a questo punto, questo è un grafico in questo momento che sto tenendo sott'occhio, questa è Apple, la super big azienda americana, allora qua troviamo la piattaforma di TradingView classica, ragazzi andiamo a capire come si usa il paper trading, che è il nostro conto demo, allora è qui ragazzi, allora vi dico francamente, io il paper trading l'ho già attivato, quindi troverete in questo momento delle operazioni che ho fatto su Bitcoin, tempo fa per una video che stavo facendo, una serie che stavo facendo sul canale, come si utilizzava il dollar cost average, che era la strategia del piano d'accumulo, in questo caso è una gara fra me, che faccio il trailer ragazzi, è il piano d'accumulo, la strategia del piano d'accumulo, indovinate chi sta vincendo ragazzi, non ve lo dico, va bene, allora quando invece voi andate a fare il, per la prima volta il paper trading, vi trovate di fronte questo tab, in questo momento ragazzi, quindi vi faccio rivedere, cliccate su pannello di controllo, che trovate qui in basso, qui in questa parte qui, ci cliccate sopra ragazzi, e vi si apre questo tab, con le varie opportunità, allora ragazzi, io Trade Station ce l'ho, quindi probabilmente farò anche una video, per far vedere come si collega, magari come opera, magari lo farò, ragazzi non l'ho mai usato, vi dico francamente, perché io utilizzo direttamente, la piattaforma del broker Trade Station, però perché no ragazzi, colleghiamola anche a TradingView, allora ragazzi, voi vi troverete davanti, questi quattro exchange, quello che ci interessa, è appunto, connetterci al paper trading, quindi vi connettete al paper trading, cliccando connect, qui ragazzi, vi dà un saldo finto, 101 mila ragazzi, ok, poi potete azzerarlo, anche qui, una volta che avete fatto, tutti i vostri test, io lo uso, vedete qui, reset il conto paper trading, se io lo clicco, resetto tutto quanto, ragazzi, a me serve solo per fare, dei test e soprattutto, dei video, far vedere delle operazioni, quello che faccio, eccetera, ma andiamo a capire, allora una volta che voi avete, attivato il paper trading, noi possiamo andare a usare, la nostra barra di trading, che è qui, allora ragazzi, il pannello trading, su trading view, se non lo avete, basta fare impostazioni, e andare sul tab, vedete qui, trading, ed cliccare qui, su mostra pannello trading, ok, poi una volta che siamo qui, per esempio, possiamo andare a comprare, un titolo, ma questo magari lo vedremo, in un'altra lezione, dove parleremo, delle tipologie degli ordini, e magari di come fare, un primo acquisto, anzi facciamo così, se vi interessa una lezione, che parla ragazzi, della tipologia degli ordini, scrivetemelo nei commenti, ditemelo, così magari la prepariamo, altrimenti magari facciamo altro, quindi, una volta che abbiamo connesso, il nostro paper trading, abbiamo un conto fin, e possiamo operare sul mercato, benissimo, allora fin qui, tutto bene, è una parte tecnica, è una parte che ci serve, per capire come effettivamente si fa, ma andiamo adesso a ragionare, e a capire, quali sono le differenze, fra un conto demo, e un conto real, e quali sono i motivi, per utilizzare un conto demo, allora la prima differenza, sul conto demo, da tenere in considerazione, ragazzi, è una, ed è la più importante di tutti, solitamente, quando avete un conto, che è finto, come un conto demo, rischiate di più, cioè, la nostra soglia, psicologica del rischio, aumenta, aumenta, perché non sono soldi veri, non sono soldi nostri, per noi, è come giocare, un po' alla playstation, quindi, in quel caso, voi avete, una soglia del rischio, psicologica, accettata, estremamente più ampia, altro fattore, è che si investano, capitali maggiori, abbiamo visto 100 mila dollari, sul conto, 100 mila euro, che siano, ragazzi, va, chiaramente, magari nessuno, inizia a fare trading con queste cifre, soprattutto, se siete neofiti, perciò, si stanno utilizzando, delle cifre, estremamente fuori dal normale, quindi, iper realistiche, diciamo così, queste due, queste due cose, ragazzi, si collegano, sulla ultima, delle variabili, che dobbiamo tenere in considerazione, il conto demo, non ha, la pressione emotiva, che invece, avrà il conto real, quindi, lo dovete considerare questo, quando si va ad utilizzare, un conto demo, quello che fate, ragazzi, è senza emozioni, non avete la variabile emotiva addosso, quindi, se voi operate sui mercati, sulla demo, dovete ricordarvi, che poi, quando andate sul real, è completamente un altro mondo, perché lì interviene, la variabile emotiva, che, badate bene, influisce, per il 70%, sul vostro operato, sul fatto, se fate o meno profitti, quindi, la variabile emotiva, nel trading, è una delle variabili fondamentali, perciò, ragazzi, operare in demo, non è per niente, paragonabile, all'operazione in real time, e allora, se è così diverso, se la variabile emotiva, non c'è, se i capitali, sono troppi, ed è tutta questa differenza, perché lo usiamo? Ragazzi, lo usiamo, perché, se siete dei neofiti, e dovete operare, su un conto demo, potete sbagliare operazione, semplicemente, cliccare male un bottone, andare a immettere, una certa quantità, che è sbagliata, perché magari, non conoscete lo strumento, questo è uno, dei principali motivi, per cui usare un conto demo, cioè, andate a sbagliare, ragazzi, perché dovete sbagliare, nel trading, fate 10.000 errori, per imparare, come si usa una piattaforma, come si usano gli ordini, in acquisto, e in vendita, quindi, prima cosa, fondamentale, primo vantaggio, del conto demo, potete sbagliare gratis, senza alcun problema, Poi, secondo vantaggio principale, nel conto demo, ragazzi, potete esercitarvi, nei calcoli, nel dire, ok, quanto capitale sto investendo, se compro 100 pezzi, di questo strumento, per esempio, questo è un esercizio, e lo facciamo insieme, allora ragazzi, qui io ho, Apple davanti a me, clicco su compra, e dico, benissimo, compro 50 titoli, Apple, il prezzo, è 330,97, ragazzi, vedete, 330,97, la mia domanda, è, quanto capitale, sto investendo, chi lo sa, ragazzi, scrivetelo nei commenti, come risposta, ormai, ragioniamo così, su questo corso, un secondo vantaggio, è quello, di farvi fare, questi conti, poter sbagliare, poter operare, poter provare, cliccare, vedere quanto capitale c'è, e vedere, ok, ho ragionato bene, giusto, sbagliato, quindi, vi serve per esercitarvi, terzo e ultimo vantaggio, quello che ritengo il più importante di tutti, ragazzi, il conto demo, deve servirvi, per sviluppare, una strategia, di trading, quindi, usiamo l'analisi tecnica, per capire, cosa fare, in un determinato momento, se io uso, sempre, la stessa strategia, e non la cambio, e dico, bene, se il prezzo va qui, compro questa quantità, se va lì, compro questa quantità, e faccio sempre, la stessa strategia, ragazzi, allora, conto demo, sarà uguale, al conto real, se voi, vi esercitate, a crearvi, una strategia, di trading, sul conto demo, poi, sarete pronti, ad operare, sul conto real, e non ci sarà, nessuna differenza, ragazzi, perché, il conto demo, e il conto real, saranno uguali, ci possono essere, delle piccole differenze, negli eseguiti, dovuti a una serie, di problemi, ragazzi, che non andiamo qui, a discutere, perché sono, piccolissime differenze, ma, quello che mi preme dirvi, è che, il più grande, vantaggio, della demo, dell'usare una demo, quando, vi formate, quando state studiando, il trading, e l'analisi tecnica, è esattamente questo, vi dà la possibilità, di crearvi una strategia, testarla, e poi, ragazzi, potete replicarla, in real, se fate, esattamente, la stessa strategia, non cambierà, nulla, quindi, si annullano, in pratica, tutti i difetti, del conto demo, semplicemente, usando, questo piccolo tips, che vi ho detto, ragazzi, questo trucco, questo segreto, che fa sì, che il conto demo, risulti effettivamente, essere utile, per tutti quelli, che stanno studiando, ed essere paragonabili, alla realtà, tutti gli svantaggi, del conto demo, li annulliamo, esattamente, in questo modo, usatelo, perciò, per crearvi, la vostra strategia, creare una strategia, magari faremo insieme, qualche esercizio, in questo, corso, che ci accompagna, in questa serie, che sto facendo, ragazzi, perciò, iscrivetevi, se non volete perdervi, tutti questi video, bene, siamo arrivati alla fine, di questo video, vi ringrazio, come sempre, per essere stati qui con me, mi piace un po', la formazione, ragazzi, tantissimo, perché secondo me, è di grande valore, aggiunto, per tutti quelli, che vogliono iniziare, a investire, capire, che cosa significa investire, formarsi è il numero uno, ragazzi, io lo faccio da tantissimi tempi, quindi ci tengo, anche a sapere, cosa ne pensate, di questo corso, cosa, avete in testa, cosa ne pensate, ragazzi, vi aiuta, in che modo, scrivetemelo, per me, è fondamentale, il vostro feedback, ciao a tutti, intanto, e noi ci rivediamo, nel prossimo video, e noi ci rivediamo,